Il legno, questo splendido materiale, proteggiamolo, proteggiamo i seramenti con l'Ignun Natur. Ma come li manteniamo nel tempo? Con grande facilità. In caso di semplice deposito di polvere, passare un tampone morbido e asciutto. Prepariamoci per applicare l'Ignun Natur. Agitiamo il prodotto e cominciamo. Si può applicare anche a pennelli, ma l'importante è non eccedere. Con un panno morbido uniformiamo la superficie. Abbiamo terminato e il legno è come nuovo. L'Ignun Natur. Matrimonio perfetto con il legno di casa tua. L'Ignun Natur. L'Ignun Natur. L'Ignun Natur. L'Ignun Natur. Grazie a tutti.